Ci troviamo a Cene presso il Circolo Insieme per Cene, che si tratta di un'associazione culturale ricreativa. Con noi abbiamo la dottoressa Maria Peracchi, che è la vicepresidente dell'associazione. In questi giorni c'è una mostra presso la vostra sede. Quale? Grazie alla collaborazione con l'associazione Cimetrin Cee, che ha appunto dato la sua disponibilità, abbiamo aperto una mostra sulla Grande Guerra, sulla Prima Guerra Mondiale, in occasione del Centenario, perché l'Italia è entrata in guerra, ricordiamolo, il 23 maggio del 1915. Ci è sembrata un'occasione appunto da non perdere e quindi abbiamo accettato di ospitare questi pannelli, appunto che costituiscono la mostra, e che è aperta appunto liberamente alla visita di chi lo voglia. Sabato, è importante ricordare, sabato 18 aprile alle 17.30 presso la Sala Consigliere del Municipio, ci saranno gli autori di alcuni testi importanti sulla Prima Guerra Mondiale, Baggi e Testa, che leggeranno e che commenteranno, quindi ci saranno letture di brani, di testi dal fronte, e commenti appunto su questa vicenda, su questa guerra così grave, così importante.